Per il secondo anno consecutivo, malgrado un 2020 caratterizzato dalla pandemia, la tua, l'azienda di trasporti della regione Abruzzo, è riuscita a chiudere il proprio bilancio inattivo con un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro. L'azienda in questo anno ha assicurato inoltre la realizzazione di circa 25 milioni di chilometri, di cui 24 su gomma e 790 mila su ferro, con una riduzione di appena il 23,5% dei servizi rispetto all'anno precedente, soprattutto per effetto delle limitazioni imposte dalle autorità per contrastare gli effetti del Covid-19. Ulteriore impulso alla politica di sviluppo dell'azienda è stato dato dal rinnovamento del proprio parco mezzi aziendale. Oggi possiamo annunciare che dal 2019 ad oggi abbiamo acquistato oltre 188 autobus nuovi e stiamo perfezionando l'acquisto di ulteriori 65 autobus, che quindi creeranno le condizioni per un ricambio assolutamente importante sulla flotta. Questi autobus in gran parte, perché siamo stati in questo senso prevergenti, fanno riferimento alla cosiddetta transizione ecologica, che in questo momento è abbastanza sentita e sottolineata in Italia, perché molti sono a gasolio. Stiamo per aprire, intercettando finanziamenti pubblici dei posti per poter ricaricare sul territorio, all'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara, questi autobus. E si troveremo sostanzialmente in un momento in cui la tua avrà la possibilità e la capacità anche attraverso alcune riforme che abbiamo fatte, sia per quello che riguarda il web, la dematerializzazione dei biglietti, ma anche il controllo a distanza, ad essere un'azienda che, come dicevo prima, ha acquisito a livello nazionale un'importanza strategica che non ci aspettavamo di raggiungere nel così breve periodo. Nuovi pullman e nuovi posti di lavoro? Nuovi pullman, nuovi posti di lavoro, ma non soltanto perché ci sono i nuovi pullman, ma anche perché, e questo sarà oggetto di una conferenza stampa prossima avventura, dopo che sarà perfezionato tutto un iter procedurale che prevede anche l'intervento del Ministero, ci sono diversi leggi che consentono di farci dire che prospetticamente andremo ad assumere.